Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento col Coricom ai programmi per l'accesso. Siamo il presidente del Coricom Alessandro De Cilis, il sottoscritto, e a fianco a me l'avvocato Gianluca Nargiso, vicepresidente del Coricom. Siamo qui per parlare di problematiche importanti che riguardano il mondo dei minori e la relazione col mondo del digitale. E' una nuova sfida che il Coricom sta accogliendo trovando nuove soluzioni, rivolgendosi proprio a quel target di ragazzi che si trova spiazzato dovendo utilizzare sempre di più i device. Il primo approccio che noi abbiamo con l'avvocato Gianluca Nargiso è proprio quello della firma col garante per la privacy che ci ha consentito di fare un passo in avanti per la tutela dei ragazzi online. Avvocato Nargiso. Sì, in particolare noi poniamo la nostra attenzione sul deteriore fenomeno del cyberbullismo, perché le nuove generazioni, essendo nativi digitali, pensano di avere degli orizzonti sostanzialmente limitati. E quindi, come sappiamo, i ragazzi hanno in sé i germi del bene e del male in modo assolutamente amplificato. Questo vuol dire che spesso questi fenomeni, diciamo, tradizionali di bullismo trovano nelle nuove tecnologie un detonatore. E per contrastare questo fenomeno le istituzioni stanno lavorando in rete. Questo protocollo che abbiamo firmato di recente è innovativo perché ci consente, qualente di prossimità, di poter dare delle risposte più efficaci alle persone che incappano in queste problematiche, che sono sul nostro territorio piemontese, che si possono conseguentemente rivolgere a noi, sapendo che potremo intervenire interfacciandoci col garante privacy, sia per favorire la rimozione dei contenuti lessivi, sia per fare un intervento nei confronti di chi ha posto in essere queste condotte aggressive, e spesso anche il suo intervento vale comunque a far cessare queste condotte. Beh, grazie, grazie avvocato. Questa è la fase che è successiva alla problematica, ma uno degli aspetti su cui noi stiamo lavorando tantissimo come Alcoracom è la fase preventiva. Cioè vogliamo fare in modo che questi problemi non debbano esistere. Come lo facciamo? Innanzitutto con dei moduli educativi. Per parlare ai ragazzi dobbiamo trovare un codice linguistico che sia migliore e più efficace. Per questo abbiamo scelto di lavorare nel mondo delle arti, del teatro, coinvolgendo i ragazzi in diversi momenti. Uno fra questi sicuramente è il Salone del Libro, in cui abbiamo organizzato tre eventi con diverse tematiche e abbiamo creato uno spettacolo, Bulli a metà, con Canto Arte Creativa, Davide Monia, Tatiana Calegari, Mariana Locantore. Sono spettacoli che verranno portati all'interno delle scuole per far recitare direttamente i ragazzi e far capire che la prevenzione è alla base di tutto. Oltre a questo il Torino Fringe Festival, a cui abbiamo aderito con lo stesso spettacolo, lo spettacolo Fragilità. Questo è solo uno dei pochi aspetti che noi utilizzeremo per comunicare con i ragazzi. Avvocato Nargiso, un'altra problematica importante è quella della disinformazione, di cui abbiamo parlato anche al Salone del Libro. Sì, la disinformazione è un tema largamente dibattuto. Trovare delle notizie sulla rete, che è ormai l'esercizio più diffuso per informarsi, non significa automaticamente avere una certificazione circa l'attendibilità delle notizie stesse. Noi ci rivolgiamo a tutti, ma in particolare le giovani generazioni che, essendo nativi digitali, vedono la rete come un insostituibile punto di riferimento. Noi non vogliamo togliere queste abitudini, perché sappiamo che ormai da queste abitudini non si prescinde. Vogliamo soltanto accendere un faro critico su come ci si deve informare. Per cui il senso critico che noi cerchiamo di instillare nelle giovani generazioni deve far sì che essi debbano mantenere alto questo aspetto di valutazione dei contenuti che vengono veicolati in rete, proprio perché noi stiamo formando i nuovi cittadini. E quindi i nuovi cittadini devono assolutamente avere un'informazione di qualità. Grazie Allora Avvocato Nargiso per questo intervento. Per questo stiamo lavorando anche con l'ordine dei giornalisti. Per chiudere, il coro come al coro come ci si può rivolgere per le controverse nei confronti degli operatori di comunicazione e quindi per i problemi di sovraffatturazione. Grazie e al prossimo appuntamento. Buongiorno, chi è questa Fondazione Ricerca Molinette? La Fondazione Ricerca Molinette è un'associazione senza fini di lucro, una ONLUS, che nasce nel 2001 e ha lo scopo di supportare la ricerca medica dell'ospedale Molinette di Torino. Diciamo che in questi anni è riuscita a creare un ponte tra l'università e quella che definirei l'operatività clinica dell'ospedale stesso. Quali sono gli obiettivi della Fondazione Ricerca Molinette? Proprio riassumendoli al massimo, sono prevalentemente due. Il primo obiettivo è quello di sensibilizzare il più possibile la cittadinanza su quelle che sono le cure, ma soprattutto la prevenzione, di determinate patologie legate, ahimè, soprattutto prevalentemente al settore oncologico. Il secondo obiettivo è quello di ricercare i fondi, perché ahimè il VIL denaro è sempre molto importante e prezioso, perché le auto senza benzina non possono andare avanti, ricercare i fondi per finanziare i gruppi di ricerca dell'ospedale Molinette. Ora, come fa la Fondazione Ricerca Molinette a ottenere questi obiettivi? Ogni anno si organizzano delle campagne, delle campagne anche molto interessanti, molto toccanti e anche a volte ludiche. Adesso per esempio si sta, diciamo così, svolgendo una campagna che è stata chiamata Donne per le donne 2019 e è già iniziata in primavera con una bellissima mostra che è stata fatta, è stata una mostra di fotografie, in pratica noi donne delle Molinette, io l'onoro appunto di essere tra queste, noi donne delle Molinette siamo state fotografate e intervistate peraltro da delle persone bravissime, delle ragazze giovanissime e le nostre foto e con le nostre interviste sono state esposte al centro oncologico dell'ospedale Molinette. Lascerei la parola in questo momento alla dottoressa Finocchiaro che è medico, quindi parlerà in medichese, visto che io questa lingua in me non la conosco, io parlo solo col cuore, che ci parlerà di questa campagna Donne per le donne 2019. Allora, in questa campagna per le donne, quest'anno cosa abbiamo voluto realizzare? Abbiamo voluto realizzare le cose che diciamo sempre, uno stile di vita previene le patologie oncologiche sia in prevenzione primaria che secondaria, ma l'abbiamo fatta con un risvolto pratico, quindi con una cena didattica, con una chef scelta appositamente, anche le ricette abbiamo cucinato con le pazienti e con le persone che hanno voluto sostenerci in questa fase, è stato molto divertente, l'area era anche molto bella, ben attrezzata e abbiamo imparato tutti delle cose nuove. E poi per quel che riguarda invece l'attività fisica abbiamo dedicato due escursioni, visto che Torino è piena di bei parchi, col cai sia sul Colle della Maddalena e poi un'escursione il giorno dopo invece di non walking con degli specialisti proprio per far vedere come queste due tipologie di prestazioni molto semplici che sono cucina buona ma sana e attività fisica possono veramente regalarci la salute e anche dei bei momenti insieme. L'altro punto invece che noi stiamo lavorando per un progetto e per questo la ricerca dei fondi per cui stiamo effettivamente lavorando in collaborazione con la fondazione per la ricerca per uno studio sulle donne già affette da tumore della mammella che stanno facendo la terapia neodiuvante e che vengono sottoposte nel nostro servizio di dietetica dell'ospedale Molinette a un regime di dieta particolare con una restrizione calorica ovviamente studiata da noi e stiamo vedendo gli effetti in maniera da ridurre e collaborare con l'oncologo affinché la terapia possa essere ancora più forte nell'ambito della patologia. Tutto questo lo potete trovare sul sito fondazionericercamolinette.it Vi ringraziamo per questa attenzione. Grazie infinite, buongiorno a tutti e speriamo che la ricerca possa veramente fare dei passi da gigante per salvare veramente più donne possibile come noi. Buongiorno, sono Bruno Mellano, da cinque anni garante delle persone detenute della regione Piemonte. Sono qui oggi su invito e su richiesta dell'associazione internazionale Nessuno Tocchi Caino. Nessuno Tocchi Caino è un'associazione che da 40 anni si occupa della lotta contro la pena di morte nel mondo e contro le pene fino alla morte e le pene inumane e degradanti che hanno caratterizzato purtroppo anche l'esecuzione penale nel nostro paese. È per questo che gli amici di Nessuno Tocchi Caino hanno chiesto a me, garante dei detenuti, di essere qui oggi per fare un piccolo, ma crediamo significativo, approfondimento sull'esecuzione della pena nel nostro paese. Ci sono molte carceri, 190 nel paese, 13 sono in Piemonte. L'esecuzione penale è suddivisa per diversa intensità di custodia secondo la pericolosità dei cittadini detenuti. Al momento abbiamo oltre 60.000 detenuti, 60.550 detenuti, di cui 4.400 nelle 13 carceri piemontesi. Ma soltanto una parte minoritaria è in qualche modo una popolazione reclusa considerata pericolosa, quella che viene inserita nei circuiti penitenziari cosiddetti ad alta sicurezza. I circuiti penitenziari sono una organizzazione che l'amministrazione penitenziaria si è data per meglio gestire la popolazione detenuta, dividendola e suddividendola in base alla pericolosità sociale o criminale all'interno degli istituti o nel contatto col territorio. A livello italiano ad oggi sono circa 9.000 le persone, sui 60.000, considerati pericolosi da essere inseriti in un circuito ad alta sicurezza. Di questi circa 9.000, 530 sono in Piemonte, in particolare nella casa di reclusione di Asti, che è una casa di reclusione tutta ad alta sicurezza. Poi nel padiglione nuovo del carcere di Saluzzo, ora trasferiti nel padiglione vecchio del carcere di Saluzzo, circa 200, 250 sono quelli di Asti, una cinquantina a Torino e poi qualcuno ad Alessandria o residui nelle altre carceri piemontesi. Perché è importante parlare di questo? Perché la detenzione delle persone considerate ad alta sicurezza, quindi a maggiore pericolosità sociale, richiede, esige un trattamento differenziato, qualificato. Se ha un senso costruire dei circuiti penitenziari diversificati, ha un senso proprio per costruire dei percorsi di recupero, di reinserimento laddove possibile, di una punizione, di una pena che sia volta al recupero, come dice l'articolo 27 della Costituzione, alla rieducazione. Abbiamo accanto ai circuiti penitenziari anche degli altri sistemi che sono, diciamo, più dei regimi previsti proprio dalla legge, come il 41 bis. In Piemonte sono due le sezioni, quella di Cuneo e quella di Novara. In tutto circa 110 persone, 70 a Novara e 40 a Cuneo, per un panorama complessivo italiano di circa 730 detenuti. L'alta sicurezza è un regime che è in parte collegato al 41 bis perché quelli afferenti alla criminalità organizzata, quando sono, diciamo, declassificati, considerati meno pericolosi, passano dal 41 bis all'alta sicurezza. Parlare di circuiti penitenziari è decisivo perché il recupero, il reinserimento, la rieducazione passa attraverso una collaborazione stretta fra l'amministrazione penitenziaria e il tessuto del territorio, sia inteso come enti locali, come regione, come ASL, ma anche rispetto al privato sociale, rispetto alle associazioni. Nessuno Tocchi Caino, da oltre 4 anni, ha dei programmi nelle carceri di alta sicurezza di Opera, di Voghera, di Vigevano, dei progetti Spes contra Spem, è il titolo, proprio volto al recupero e alla discussione dei problemi legati ad un'esecuzione penale di lungo periodo, di gravità importante, con reati significativi, su cui occorre davvero spendere in modo oculato le risorse. Se il carcere ha un senso, ha sicuramente un senso rispetto a queste 9.000 persone dell'alta sicurezza, ed è il carcere, in qualche modo, che pensiamo tutti, quando pensiamo ad un carcere duro, ma utile e rivolto al recupero e al reinserimento. Buongiorno, mi chiamo Marinella Locantore, sono il presidente di Incanto Arte Creativa, un'associazione di promozione sociale di Torino che si occupa di divulgare argomenti importanti attraverso l'arte, in particolar modo attraverso il canto, la danza, il teatro e il disegno. Grazie all'allestimento di spettacoli sociali abbiamo la possibilità di entrare in contatto con moltissimi giovani del territorio, che sperimentano la loro creatività attraverso le varie discipline artistiche. La speranza è quello di arrivare a loro attraverso la loro musica del cuore, attraverso i testi delle loro canzoni preferite, attraverso la potenza del teatro e del disegno. La speranza è di lanciare un salvagente in quel loro mare di emozioni, perché si possano aggrappare arrivando a riva consapevoli di non essere lasciati soli. Paura, sofferenza, senso di solitudine, voglia di parlare, voglia di correre e poi voglia di fermarsi per cantare, respirare e vivere. Tutte queste fragilità e questi talenti racchiudono un legittimo desiderio di questi ragazzi di essere compresi per quello che davvero sono al di là delle convenzioni sociali ed essere amati in maniera incondizionata. Grazie agli incontri atti ad allestire gli spettacoli a sfondo benefico, le loro vite si arricchiscono al di là dei cellulari e delle realtà aumentate. Riescono a meravigliarsi attraverso la potenza della musica, della poesia e del movimento danzato. Un'equipe di professionisti del settore li accompagna alla scoperta del loro talento per poi portarli in scena e meravigliare anche lo spettatore. La nostra associazione è infatti attiva per questo scopo da circa sette anni e in questo periodo di tempo ha già allestito numerosi spettacoli a sfondo appunto benefico parlando di argomenti sensibili come la disabilità, la memoria storica, il sostegno allo studio e al talento, lo sport, il bullismo e il cyberbullismo. Lo scopo del nostro lavoro abbraccia quinti due aspetti fondamentali. Da un lato riusciamo a fornire ai ragazzi mezzi espressivi con i quali potersi esprimere, crescere ed evolvere, dall'altro riusciamo a divulgare e informare il pubblico che verrà teatro portandola a riflettere i suoi contenuti proposti ed offrendo suggerimenti e spunti di riflessione in forma musicale ed artistica. Le offerte raccolte durante i grandi eventi portano a sostenere economicamente progetti da noi selezionati che ci vengono proposti dalle onlus del territorio e che spesso andranno ad operare direttamente nelle scuole primarie e secondarie con strategie studiate ad hoc mirate a trovare soluzioni concrete a piaghe sociali importanti. In particolare quest'anno ci siamo concentrati sul bullismo e sul cyberbullismo allestendo due spettacoli inediti, Bulli a Metà e Fragilità. Bulli a Metà è un progetto che è una trasposizione teatrale del film di Davide Mogna che si è autoprodotto questo film alla sola età di 16 anni e un ragazzo di Cuneo che porta questo lavoro all'interno delle scuole a parlare con i suoi coetanei con un mezzo molto diretto e efficace. Lo spettacolo è stato portato in scena anche al Salone del Libro di Torino e al Torino Fringe Festival grazie al patrocinio del Corecom e del Consiglio regionale del Piemonte. Con il progetto Fragilità vogliamo invece sottolineare le diverse capacità di reazione e adattamento alle solicitazioni esterne di ogni ragazzo. Ha a sé un mondo unico, fatto di materiale umano ed emotivo, differente. Il cyberbullismo a volte può uccidere perché ferisce nel profondo ragazzi particolarmente fragili e lo fa con mezzi divulgativi importanti. La rete è pericolosa, una volta che ti ha inghiottito non ti lascia più. I ragazzi devono sapere quanto sia importante non giocare con questa realtà e imparare a responsabilizzarsi verso un mezzo che ormai è diventato priorità assoluta. Fragilità è andato in scena il 29 maggio al Teatro Alfieri con il patrocino della città di Torino ed è stato presenziato dalla senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della legge 71 sul cyberbullismo e da Alessandro De Cilis, presidente del Comitato regionale per la comunicazione del Piemonte Corecom. I soldi raccolti durante questo spettacolo sono andati a finanziare il progetto Mediamente Bulli dell'associazione Onlus Esseri Umani. L'arte è mezzo di aggregazione importante e Incanto Arte Creativa ha lo scopo di divulgare questo messaggio per creare cultura, bellezza e speranza nel territorio, soprattutto tra i giovani. Grazie. Il Comitato di Susa della Croce Rossa italiana è attivo sul territorio Valsusino sin dal 1998. In questi vent'anni si è sempre occupato di attività sanitarie, sociali e di risposta alle emergenze. A partire dal 2017 abbiamo lanciato il progetto My Protection che ha l'obiettivo di lottare contro la morte cardiaca improvvisa mettendo in campo due azioni fondamentali che sono la diffusione dei DAE, dei difibrillatori automatici esterni sul territorio e la formazione delle persone al loro utilizzo. In questi due anni sono oltre 12 le postazioni che abbiamo installato sul territorio della media valle di Susa e dall'inizio di questa avventura oltre 1800 persone, giovani, adulti, persone di ogni età sono state formate per utilizzare questo presidio salvavita che può davvero fare la differenza in caso di emergenza. È molto importante sapere che sul nostro sito attraverso i canali social si può conoscere la localizzazione di queste postazioni che devono essere appunto note a tutta la popolazione ed è possibile contribuire effettivamente alla crescita, allo sviluppo di questo progetto. Questo progetto è nato con forza dalla nostra volontà e soprattutto si esprime e trova la sua conclusione nel momento in cui si attiva la formazione in questo senso. Formare a livello capillare il territorio è assolutamente significativo per combattere la morte cardiaca improvvisa. Come ha detto il mio collega noi abbiamo formato 1800 persone perché crediamo assolutamente nella prevenzione, crediamo che soprattutto in un territorio come il nostro sia estremamente significativo avere delle persone laiche formate in grado di attendere i soccorsi e di sostenere il momento di attesa nella maniera più corretta possibile. La morte cardiaca improvvisa è una patologia che ahimè colpisce persone sane, quindi non è prevedibile e non è assolutamente gestibile in maniera diversa se non con un discorso preventivo organizzato. Quindi nasce dall'esigenza della soddisfazione di uno degli anelli della catena della sopravvivenza che è proprio quello relativo alla defibrillazione precoce da parte del personale non sanitario. Detto questo noi abbiamo attivato questi corsi sul territorio a risposta di questo progetto per sensibilizzare la popolazione e per fare in modo di avere persone capaci di attendere noi, di attendere i soccorsi, di attendere il personale sanitario in arrivo. La morte cardiaca improvvisa è, come ho detto prima, priva di ogni segno prodromo ma soprattutto è una situazione che passa attraverso un ritmo che è appunto defibrillabile ma se gestito in una maniera rapida e veloce. Quindi noi andiamo insegnando il massaggio cardiaco, le manovre rianimatorie alle persone che non sono competenti in materia. Quindi spiegando loro quanto sia semplice fare questi gesti perché molto semplici ma soprattutto utilissimi. Detto questo l'uso del defibrillatore deve essere, è stato all'inizio un pochino sfatato come concetto perché faceva paura, oggi molta popolazione ha compreso che è assolutamente assimilabile ad un elettrodomestico. Esiste un percorso formativo per dare una spiegazione scientifica e motivare i gesti che si fanno per chi desidera avere una visione più ampia, ma è veramente di un utilizzo talmente semplice che è un peccato non formare capillarmente le persone. Detto questo noi abbiamo sempre, tutti i mesi, proposte di corsi, richieste, stiamo facendo dei grossi lavori in ambito scolastico perché i giovani sono naturalmente il futuro e quindi pensiamo che a tappeto formando le classi quinte, quindi personale comunque maggiorenne, si faccia un buon lavoro sul territorio, sulla società, quindi a livello proprio realistico. Quindi andiamo avanti in questa formazione, crediamo in questo progetto, questo progetto potrà sicuramente far migliorare la qualità della vita di vite eventualmente salvate grazie all'utilizzo del defibrillatore. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione!